È scattato il conto alla rovescia per il fischio d'inizio della settima edizione di Bergamondo, il torneo di calcio che il CSI insieme all'Ecco di Bergamo dedicano agli stranieri residenti in Bergamasca. Il torneo vedrà scendere in campo 20 squadre in rappresentanza di altrettante nazioni. Tra i partner più significativi che da sempre hanno sostenuto Bergamondo c'è il credito bergamasco. Sosteniamo molto volentieri queste iniziative che sono volte andare ad integrare le popolazioni, popolazioni nuove che abitano appunto e vivono e prosperano. La settima edizione di Bergamondo si è aperta ad un'importante novità promossa dalla CISL. Oltre alle partite del torneo classico di Bergamondo si svolgerà anche questo torneo Under 16 dove verrà lanciata la carta dei diritti e dei doveri per la cittadinanza italiana. È un'iniziativa che abbiamo promosso come ANOF che è l'associazione degli immigrati della CISL. Alla presentazione della settima edizione di Bergamondo c'era l'assessore provinciale allo sport Alessandro Cottini. È anche un modo importante per questi cittadini di tante comunità diverse di trovarsi insieme ma anche di trovarsi all'interno della propria comunità. Quindi gioiscono stando con le proprie comunità di origine e facendo comune insieme con le comunità di altri stati.